Sfatare il tabù delle big del girone e continuare ad inseguire il migliore piazzamento possibile nella griglia playoff. Questi sono due degli obiettivi del Taranto che affronterà l'Avellino allo Iacovone nella notturna di domenica prossima. I ragazzi di Capuano in stagione non sono riusciti mai a vincere con una big del campionato, rimediando al momento con Juve Stabia, Avellino, Benevento e Casertana cinque sconfitte e due pareggi. Inoltre l'ambiente tarantino è deluso dalla conferma dei quattro punti di penalizzazione riconfermati giovedì scorso con il rigetto del ricorso del club rosso-blu. Malgrado questo la prevendita dei biglietti sta fornendo dei buoni riscontri con la curva nord verso il sold out e una proiezione di 7.000 spettatori. Per quanto riguarda la formazione, mister Capuano non avrà a disposizione il difensore Riggio e il centrocampista Fiorani, entrambi squalificati, oltre ai problemi sugli esterni con gli uomini contati soprattutto dopo l'infortunio di Ferrara. L'undici rosso-blu pronto ad affrontare l'Irpini potrebbe somigliare al seguente. Vannucchi in porta, linea difensiva con Luciani, Miceli e Derrici. A centrocampo Calvano e Zonta nel ruolo di interni con Mastro Monaco a destra e Baglietti a sinistra. In attacco il tridente composto da Canutè, Fabbro e Bifulco con De Marchi e Orlando pronti a subentrare a gara in corso. Palla al centro lo Iacovone, domenica alle ore 20.